Una sosta in periferia alle case bianche di via Salomone, l'incontro con il clero e i consacrati in Duomo, la visita al carcere di San Vittore, il pranzo con i detenuti, la messa al parco di Monza e l'abbraccio con i ragazzi della Cresima allo stadio di San Siro. La visita pastorale di Papa Francesco a Milano è caratterizzata da una fitta agenda di appuntamenti preparati con cura e partecipazione collettiva. È un grande dono per tutta la città, un grande dono per la Chiesa Ambrosiana, ricevere la propria guida, colui che viene a confermarci nella fede ed è un dono per tutta la città, per la parte laica, per chi dice di non credere. Papa Francesco, come ci ricorda sempre il Cardinale Scola, poteva visitare qualsiasi altra metropola europea, abbiamo noi il dono di averlo. La Chiesa si è preparata con un cammino lungo di preparazione riscoprendo il senso del primato petrino, il senso del Papa, il senso di avere una guida, il senso di essere popolo. Abbiamo preparato un libro con tutti questi contenuti che sono diventati catechesi, riflessioni nelle parrocchie e che si sono trasformati poi in una mobilitazione popolare. Polo economico di eccellenza, capitale della moda, Milano presenta anche contraddizioni e sacche di esclusione, una realtà complessa che vede la Chiesa locale in prima linea nella promozione materiale della solidarietà. La Chiesa di Milano è una grande tradizione nell'impegno della carità, il detto di Milano col curi in man, cioè Milano che si prende a cuore tutte le difficoltà, è vivo. L'impegno della Chiesa è pastorale, con i poveri, stare vicino, accogliere, accompagnare, consolare, ma è anche operativo, un impegno diretto. Il dono che simbolicamente abbiamo fatto oggi a Papa Francesco sono 55 case per famiglie che hanno perso l'abitazione, case che abbiamo preso dall'Aler, abbiamo ristrutturato le nostre spese e diamo in comodato un affitto simbolico a queste famiglie. Sotto lo sguardo amorevole della Madonnina, la visita di Papa Francesco a Milano cade nella solenità liturgica dell'Annunciazione che segna l'impatto dell'Eterno nella storia. Una felicissima coincidenza, la visita del Papa ci porta a questa tenerezza di Maria, ci porta la figura paterna e materna della Chiesa e al tempo stesso ci porta a consolazione. Mai come in questo momento, segnati come siamo, dalla crisi economica, dal terrorismo, dall'incertezza sul futuro, la visita di Papa Francesco giunge in questa città e in questa Chiesa come opportuna. Abbiamo bisogno della consolazione di Maria e della consolazione che il Papa ci porta.